La cosa meravigliosa del vedere il film in una sala e non da solo in un computer è che voi ricevete dal vostro vicino di sala, di posto, una sensazione, un sentimento, un'emozione, un'attenzione e un disappunto e questa cosa rende comprensibile il film. Il cinema è un'opera d'arte collettiva, ci sono varie persone che mettono insieme la propria professionalità, la propria esperienza, il proprio talento per fare un'opera d'arte collettiva, una cosa meravigliosa. Il genere umano produce collettivamente un'opera d'arte, più o meno riuscita, ma un'opera d'arte e quindi va vista collettivamente. I ragazzi del Cinema America svolgono una funzione determinante perché senza la proiezione pubblica il cinema non ha più senso, non ha più senso farlo e non ha più senso vederlo. Quindi grazie ai ragazzi del Cinema America.